Servizi sociali, eventi, lavori pubblici, marketing, Aieta chiude positivamente il primo anno di nuova gestione Marsiglia. Un anno fa l'insediamento della nuova squadra quasi completamente rinnovata e che ha immediatamente trovato l'amalgama per lavorare nella giusta direzione. In questo primo anno infatti si sono sviluppati diversi progetti riguardanti il sociale, ma anche quelli rivolti al miglioramento dei servizi e delle nuove iniziative di ciascuno dei nuovi amministratori. Da qui l'attenzione nei confronti del borgo altotirranico è cresciuta in maniera netta. È stato un bel anno, lo ritengo estremamente positivo perché in quest'anno un po' su tutti i campi dal sociale al turismo alle opere pubbliche gli amministratori si sono impegnati in prima persona per portare avanti i progetti e idee e quindi a distanza di un anno complessivamente il giudizio non può che essere positivo. Gli aspetti positivi sono sicuramente tanti, ma mi piacerebbe citarne alcuni, tipo lo sportello amico, i servizi per gli anziani, per le persone in difficoltà, ma anche le manifestazioni estive e il lustro che è stato attraverso al Paese. Ho fatto una prima statistica, a maggio abbiamo avuto un'impennata di visite. Ormai visitare Aieta nel tour dell'altotirreno, fare una puntata, una mezzogiornata, una giornata intera al Comune di Aieta è diventato un must. È tutto un fiorire di iniziative che sta premiando quella che è stata la politica di questo primo anno dell'amministrazione, cioè rimettere al centro il borgo. Come ogni Paese interno però, anche Aieta vive le sue difficoltà. Le difficoltà sono le difficoltà che incontrano un po' tutti i Paesi dell'interno, le piccole comunità. C'è lo spopolamento e la carenza cronica di risorse. Questo meccanismo di redistribuzione, l'IMU, sicuramente non aiuta i piccoli comuni dell'interno, che non hanno, come dire, costruzioni in ampia base imponibile. Ma questo è un problema generale che riguarda tutti. È chiaro che quando le risorse sono poche, quando la popolazione media è in maggioranza composta da anziani, è difficile, anzi è impossibile, programmare politiche fiscali. Quindi si deve andare sull'ottimizzazione della spesa, sui risparmi e sulla buona amministrazione, cercando di ottimizzare. L'intenzione però è quella di non arrendersi e di continuare lungo la strada intrapresa, cercando di operare in maniera ancora più vigorosa per quanto riguarda la politica del lavoro e per attirare ancora di più flussi turistici, grazie anche alla permanenza all'interno del Club dei Borghi Più Belli d'Italia. Tutto questo dovrebbe puntare a creare occupazione, a creare lavoro, a creare qualche opportunità per i ragazzi e anche per le famiglie di Aieta. Far conoscere sempre di più Aieta, perché abbiamo visto che se riusciamo a entrare e a uscire sui network, a farci conoscere, sicuramente, come dire, motivi per visitare, per apprezzare ce ne stanno. Puntiamo molto anche sul nostro museo virtuale e poi l'attenzione a quelli che sono i lavori pubblici. Su questo qua, purtroppo, segnaliamo la difficoltà che abbiamo con la Regione Calabria, perché la Regione Calabria è in forte retardo nella emissione dei bandi, quindi abbiamo proprio problemi, come tutte le altre amministrazioni locali, a partecipare a nuovi bandi.